Questo è quello che prima diceva vedere il professor Busicchi, ovvero quello da vendio centrale con un'alzare che è passata a fianco, quindi all'intervento la possibilità di protezione pedonale del termine a vendio, e due corsie affiancate alla parte edificata dalla parte interna, che sono anche le attività commerciali. Un problema potrà essere dato dalla sosta in superficie, nella sosta in carregiata, perché effettivamente questo è un elemento di riduzione della capacità della strada per portare ad una certa congestione, però è possibile trovare delle soluzioni eliminando le soste e riorganizzando delle vie laterali con dei sistemi di sosta a fine. Peraltro, dato che non conosciamo ancora le circolazioni effettive che potrebbero annunciarci una quantità di traffico minore, quindi eliminare questo problema per ora e per la nostra parte, insomma, è sempre stato rappresentato da sosta in superficie, come adesso esiste. Ecco, queste sono le verifiche che possono consentire, diciamo, un certo optimismo nel pensare che i problemi dal punto di vista trasportistico, di attività, di traffico, di accessibilità, possono essere facili, lasciandoci però una città con una qualità della vita. Grazie.